ok seconda parte e mi sa che da qui in poi troverò parecchi doppioni perché ho visto che praticamente ho già quasi tutte le carte fantastica, fatti, che bello ok ce l'ho già, ce l'ho già, ok e poi c'è filomena vabbè mettiamo i speciali qua da parte ok, mancano però più quelle speciali parecchie ce l'ho già, oh un altro rimondo e dodo dodo bar, dodo bar, vabbè comunque quell'altro, il pilota, il figlio ce l'ho già, ce l'ho già, oh blatero, che bello bellissimo vabbè qua mi sbrigo diciamo, a parte quando magari trovo qualche carta particolare ce l'ho già, sid e isabel, e isabel volevo dire fuffi isabel è il nome è il nome in inglese che deriva dal fatto che lei ha la testa che assomiglia a un sacchetto di stelline perchè è isabel, cioè è un sacchetto di stelline perchè bella è in inglese per dire stelline comunque il nome italiano deriva più da quello giapponese perchè è shizuka? no vabbè, comunque il nome un nome tipico di un cane vabbè, misuzu non mi ricordo e celeste sembra sia shizuka vabbè credo di averla già anche lei e oh sì gedeone adesso mi ricordavo non mi ricordo ancora come si chiama la scignetta vabbè allora PolpoBot Capraldo e Marco e Mirko oh chissà quali sono i nomi in giapponese dopo devo tradurlo dopo magari ve lo scrivo qua da qualche parte vabbè non metti a fuoco Tom Nook in giapponese è Tanukichi ok Tanuki Tom Nook sarebbe diciamo l'inglesizzazione di Tanuki che è il procione in giapponese questo questo forse non ce l'ho boh vabbè dopo guardo ah ecco e non mi ricordo è il nome di una scimmia di una scimmietta non mi ricordo ce l'ho già ce l'ho già e Tom Nook vedete Tanuki C cioè piccolo Tanuki si potrebbe dire perché perché c è un vezzeggiativo una cosa tipo carino boh vabbè che comunque non so perché gli hanno dato forse questa non ce l'ho tanto la metto qua da parte poi Sakura e ah sì Florindo lei e Tian Sheng e l'altro Tom Nook che si di alcuni personaggi ci sono più versioni lui lui e Isabelle oddio Bufi ultima bustina allora lui lei e e Casimira che avevo già trovato vabbè la metto qui adesso stoppo metto dentro gli altri e poi vediamo se li ho tutti ecco vedete no queste le grafiche quelle che ho trovato io sono praticamente le stesse delle tarte sì comunque non so se si riesce aspettate le faccio così dai comodissimo ok così ecco vedete sono tutte 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 non so se faranno mai uscire un album un album un album per queste ma non penso perché ormai sono già uscite da Mo tra l'altro di speciali doppie ho solo Casimira poi vabbè delle altre magari le vendo scambiarle no perché comunque le ho già tutte quindi ok bene allora alla prossima ciao ciao